Ciao a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara e benvenuti in questa nuova recensione, sigla! Oh ed eccoci qua dopo lo sfoco di ieri su Catwoman Mondo, abbiamo tra noi un'altra figure per la linea Ichibancho di Bandai e Bandai Namco abbiamo tra noi niente di meno che il Goku Super Saiyan, eccolo qua ragazzi nella sua confezione, questa qui è la parte frontale, parte laterale, questo qui è l'altro lato veramente fighe queste confezioni devo dire, questo qui è il retro, questa forse è la parte un po' meno figa, questa qui è la parte superiore, questa qui è la parte inferiore vi ricordo come sempre che se volesse acquistare questa statua o tante altre statue action figure, le trovate sempre sul mio sito Ara Seu Shop nella scheda di Nalto oppure qui sotto in descrizione acquistando lì mi interesse veramente tantissimo, ma direi di non perdere tutto il tempo sulla confezione, andiamo subito a vedere la nostra statua fuori da essa Oh ed eccolo qua il nostro Goku Super Saiyan fuori dalla confezione, allora come vedete è dotato di questa basetta con una singola asta che si collega qui sul suo sedere, uguale a quella di Broly praticamente, solo che ha meno appoggi perché naturalmente il Goku è più leggero eccolo qua, andiamolo a vedere più nel dettaglio ragazzi, stacchiamolo dalla basetta per comodità ed ecco qua un bello zoom sul viso e devo dire che non è niente male, è un viso forse anche un po' troppo cattivo però devo dire che ci sta perché il Goku si sta scagliando contro il suo nemico che in questo caso dovrebbe essere Broly ma poi penso usciranno tante altre statue con cui fare diciamo vari diorami e vari scontri veramente spettacolare anche i capelli, continuano a piacermi un sacco con questa plastica semitrasparente ma comunque con del painting, vedete perché qui ci sono delle sfumature di painting anche più chiaro per non renderli assolutamente piatti, lo scalp dei capelli anche è molto molto bello è praticamente lo scalp del Super Saiyan diciamo più recente si può dire così non è assolutamente lo scalp di Goku in versione primo Super Saiyan comunque la muscolatura anche è fatta veramente veramente bene, è uno scalp eccezionale con anche tutte le sfumature appunto per renderla meno piatta anche la posa mi piace veramente tanto una cosa che ho notato però è che non ha i capezzoli ragazzi il Goku non ha i capezzoli questa a me è una cosa che non dà per nulla fastidio anzi non me ne frega più di tanto però magari a qualcuno potrebbe dare anche fastidio una cosa del genere non ce li ha non so se si ha voluto o se ne siano scordati comunque questa è la parte posteriore anche questa molto molto ben realizzata ha tutti i muscoli della schiena, tutti i contratti poi abbiamo vedete la tunica strappata blu che poggia sullo strappo della tunica arancione al di sotto la cintura blu e poi abbiamo i pantaloni vedete con questo strappo al ginocchio con vedete tutto il tessuto diciamo che vola indietro perché appunto Goku sta andando da questa parte quindi il vento spazza via questo tessuto verso la parte posteriore devo dire che non è male questo dettaglio veramente figo poi vedete tutto sfumato assolutamente non è piatto e vediamo anche il resto del pantalone anche questo con varie sfumature veramente realizzato benissimo devo dire un sacco di sfumature qua e là qui vediamo quest'altro strappetto che rivela un po' di carnagione diciamo al di sotto e vediamo gli stivali questi qui blu con le parti rosse e il laccetto che non è giallo ma è appunto color cordino si potrebbe dire così questo beige e questa è la suola figo comunque il fatto che abbiano differenziato il colore della tunica blu quello dei polsini con quello degli stivali che vedete è leggermente più chiaro si può vedere benissimo vedete questo è più scuro è un po' più chiaro questi tocchi a me piacciono sempre lo sapete e ora ragazzi andiamo a misurare l'altezza della nostra statua eccola qui praticamente contando l'elevazione che dà la base misura circa 20 cm eccola qui a confronto del Goku Super Saiyan Blue SH Figures e del Monnetza Spider-Man Reselect come vedete si vede comunque la scala è più grande rispetto ad una SH Figures eccola qui a confronto con il Goku Super Saiyan Figures Zero eccola qua ragazzi ve la metto diciamo a confronto anche di profilo hanno la posa molto molto simile devo dire come vedete questo Goku qui Ichibancio risulta leggermente più grande rispetto a questo Goku Figures Zero chiaramente come painting ancora una volta e dettagli questo qui naturalmente è superiore ma c'è anche da dire che costa praticamente o costava praticamente il doppio se non di più comunque ecco qui un paragone anche tra questi due che era assolutamente doveroso fatemi sapere quale delle due versioni preferite con un commento qui sotto oh ed eccolo qui sulla basetta rotante per vederlo a 360 gradi devo dire che con le statue anche in particolare questa cosa è molto molto figa guardatelo qui fantastico devo dire una resa veramente eccezionale anche di questa statua ancora una volta rispetto al prezzo a cui è venduta una statua molto molto economica prodotta da Bandai credo ancora una volta in collaborazione con Banpresto veramente dei dettagli ottimi uno sculpt altrettanto buono e ancora una volta prezzo molto basso fatemi sapere cosa ne pensate voi ragazzi di questo Goku Super Saiyan che si scaglia in questa posa veramente molto dinamica con un commento qui sotto il like al video è sempre greatissimo così come anche la condivisione e vi ricordo un'ultima volta che se voleste acquistarlo se voleste acquistare tante altre statue o action figure le potete trovare nel mio sito Aras Review Shop nella scheda in alto oppure qui sotto in descrizione grazie a tutti per la visione noi ci vediamo alla prossima ciao da Arada il Goku Super Saiyan e collezionate sempre